Il regionale 29, 4, 7, 3, 5 dell'Italia, provvedente da Vistoria e il resto da lato, e dove 8, 5, 4 e il naturo ordinario 1. Spera la violenza da tornate, buon sospedale, buon sospedale a lì. Allontanati dalla linea gamba. Spera la violenza da tornate, Grazie per la visione!